Come attorcigliare la lingua? Non è difficile, ma ci sono solo alcune persone che nei tempi attuali riescono ad attorcigliare la lingua. È un'operazione che, in qualche modo, che in qualche maniera, viene ad essere compiuta da parte di determinate persone che hanno una cosiddetta predisposizione genetica. Questo significa che se sei predisposto a livello genetico sai fare questo, altrimenti no. Bene, per farlo occorre semplicemente mettersi nella condizione di pensare prima di compiere l'operazione in oggetto e accumulare, in maniera abbastanza tranquilla e serena, la capacità per farlo. E quindi a raccogliere la forza e racchiuderla all'interno della lingua, facendola passare per le strepità. Perché infatti ti ricordo e vi ricordo che nelle strepità dovrai riuscire a alzarle. È semplice per me, è un gioco da ragazzi, ma non tutti sanno farlo. Io ho spiegato e ho fatto vedere anche brevissimamente, in un istante di tempo, come ho fatto. Se non sei capace, ripeto che probabilmente è una predisposizione genetica che non hai. Grazie a Taliando, narratore italiano. Iscriviti al prossimo video.